The New Stories. La tua informazione libera. Scritto in collaborazione con Madame, la giovane artista si è distinta non solo per il suo talento innato, ma anche per un'originalità e una presenza scenica che sorprendono per la sua giovane età. Il suo background familiare, essendo figlia del celebre Pino Mango e di Laura Valente degli ex Mattia Bazar, ha certamente contribuito a creare aspettative, ma è il suo singolare approccio alla musica a catturare l'attenzione. Nella classifica provvisoria della sala stampa, Angelina ha ottenuto un eccellente secondo posto, posizionandosi subito dietro a Loredana Bertè, mentre nella classifica della terza serata ha trionfato conquistando la prima posizione, grazie al voto del pubblico e delle radio. Questi risultati sottolineano l'ampio consenso che l'artista ha saputo raccogliere in breve tempo. La serata delle cover di Sanremo, prevista per oggi, vedrà Angelina rendere omaggio a suo padre, Mango, scomparso prematuramente nel 2014. La scelta di eseguire La Rondine, uno dei brani più significativi del repertorio di Mango, è carica di significato emotivo e rappresenta un momento particolarmente atteso del festival. Angelina ha espresso il desiderio di sfruttare l'occasione per celebrare la memoria del padre, nonostante le critiche che interpretano questa decisione come una mossa strategica. La giovane artista ha affrontato la perdita del padre in tenera età, esperienza che ha segnato profondamente la sua vita personale e artistica. La decisione di non aver mai cantato brani di suo padre in vita sua rispecchia una scelta consapevole, volta a preservare un rapporto personale e intimo con la sua eredità musicale. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.